La Chiesa, nelle decisioni, deve seguire la predicazione di Gesù e farsi assistere dallo Spirito Santo, con la libertà dello Spirito ma nella dottrina, e non seguire le ideologie che dividono, mentre la dottrina e i concili uniscono la comunità cristiana. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino a Casa Santa Marta, nella quale ha commentato la prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli. Il brano descrive la comunicazione del cosiddetto Concilio di Gerusalemme alla comunità di Antiochia, che autorizza l'ingresso dei pagani nella Chiesa senza la circoncisione, chiedendo loro solo di astenersi dal mangiare carne sacrificata agli idoli e dalle unioni illegittime. Però alcuni da Gerusalemme, ricordato il Papa, erano andati a creare problemi, a dividere la Chiesa, a dire che quello che predicavano gli Apostoli non è quello che Gesù ha detto. Questi non erano credenti, erano ideologizzati, avevano un'ideologia che chiudeva il cuore all'opera dello Spirito Santo. Ma sempre c'è stata quella gente che, senza alcun incarico, vanno a turvare la comunità cristiana con discorsi che sconvolgono le anime. E no, questo che ha detto, quello è erettico, quello non si può dire, quello no, la dottrina della Chiesa è questa e sono fanatici di cose che non sono chiare, come queste fanatici che andavano lì seminando zizzagna per dividere la comunità cristiana. e questo è il problema. Quando la dottrina della Chiesa, quella che viene dal Vangelo, quella che ispira lo Spirito Santo, perché Gesù ha detto lui ci insegnerà e vi farà ricordare quello che io ho insegnato, quella dottrina diventa ideologia. E questo è il grande sbaglio di questa gente.